ecco benvenuti, buongiorno, eccoci di nuovo a questo video che riprende l'ultima lezione che abbiamo fatto su Edmondo l'argomento è sempre sullo scripting e nello scripting stiamo cercando di animare dei link set cioè degli oggetti collegati, quindi faremo vedere alcuni trucchetti per costruire alcuni oggetti link collegabili che si possono ruotare e le cui animazioni possono essere registrate dentro delle liste e poi fatte svolgere successivamente quindi la prima parte consisterà nel costruire un link set e vedere alcune piccole caratteristiche di questo link set e poi vedremo come far parlare in qualche modo questi oggetti fra di loro all'interno del stesso link set il che è già un argomento interessante andiamo, allora l'obiettivo è quello di costruire almeno due oggetti l'idea nel corso era quella di fare delle lancette che si muovono perché le lancette? perché le lancette hanno un'animazione determinata dalla loro posizione e quindi sono più facili da animare, cioè la loro rotazione scusate quindi noi partiamo come al solito da zero, costruiamo un cubo e qui se questo fosse una lancetta, quindi noi lo potremmo la lancetta potrebbe essere allungata in questa direzione ecco questa è una lancetta molto abbozzata solo che cos'è il problema? che se la ruotiamo questa lancetta vedete che si muove non come una lancetta, come un ago, ma rispetto al centro quindi per ovviare questo inconveniente CTRL Z per tornare a capo vedremo che c'è un modo per pilotare le proprietà di questa lancetta in modo tale che invece di ruotare attorno al centro ruoti attorno a una delle sue estremità questa o questa, adesso vedremo qual è andiamo quindi nell'oggetto, nel box abbiamo qua l'affetta, abbiamo visto, pure slice nel video proviamo ad affettare questo oggetto da zero a 0,5 ce lo affettiamo a metà fondamentalmente e vedete che effettivamente adesso abbiamo un oggetto che è lungo ma di cui dipingiamo soltanto metà e questo oggetto ha la proprietà interessante che facendolo ruotare gira in maniera simile a fine come si potrebbe muovere una lancetta o per ottenere l'effetto lancetta si potrebbe sempre che funzioni, provare a vedere se riusciamo a fare un tapering il tapering funziona nella direzione apposta a quella che ci interessa quindi lasciamo perdere teniamoci la lancetta in questa forma ora quindi avremo bisogno di una lancetta per esempio se volessimo animare una lancetta lunga e una lancetta corta quindi questa potrebbe essere una lancetta corta e poi la duplichiamo quindi facciamo un duplicate di questo ctrl z e poi allunghiamo questa lancetta un po' in modo tale da ottenere una seconda lancetta parallela alla prima qui poi l'altro trucchetto che ho insegnato a lezione era quella se adesso noi vogliamo allineare volessimo allineare le due lancette dovremmo dovrei far scivolare questa lancetta sull'altra però vedete che è un po' difficile farla scivolare in questo modo perché sono in coordinate globali se io invece nelle coordinate gli metto le coordinate locali vedete che le frecce cambiano e posso muoverlo esattamente secondo le direzioni che aveva proprio la freccetta quindi beh innanzitutto per distinguere dall'altra lancetta lunga la facciamo un pochino più tozza quindi la accorciamo di dimensioni lungo la rosso cioè lungo la x invece che 0,5 la possiamo fare ad esempio 0,2 quindi diventa come vedete un pochino più corta e quindi distinguibile dall'altra la mettiamo in modo tale che sia leggermente sovrapposta all'altra ma un pochino si sovrapponga in questo modo eventualmente per riuscire a rendere la cosa un po' più realistica possiamo ridurre lo spessore di tutte e due le lancette ecco così è abbastanza realistico nel senso che una lancetta sta sopra l'altra o più o meno sopra e giù magari gli cambiamo il colore quindi andiamo nella texture questa abbiamo detto che è la lancetta lunga gli togliamo il legno che è sempre bruttino lo facciamo di colore vabbè facciamo la blu bluastro mentre invece l'altra lancetta magari adesso è ancora troppo cicciottella sempre sul lungo la x la riduciamo un pochino quindi lungo la x senza che 0.5 la facciamo ad esempio 0.3 ok e poi gli togliamo la texture del legno e gli mettiamo il colore magari gli mettiamo questo qua vabbè era giusto per aggiungere un pochino di magari mettiamo un po' giorno così ci vediamo meglio ok quindi la nostra idea è quella di far ruotare in maniera diversa queste due lancette attorno al loro asse di rotazione vedete che se io faccio verifico queste in coordinate locali quindi praticamente vedete che questa lancetta gira poi posso fare ctrl z per tornare alla posizione iniziale e così via allora volevo farvi osservare una cosa cioè questa lancetta quando gira nel momento in cui gira noi possiamo vedere la rotazione a cui è associata qua vedete che abbiamo la rotazione in gradi 180 no a 60 e 180 però prima di vedere questi discorsi facciamo una cosa aggiungiamo ancora un aggiungiamo un cilindro che gli facciamo le feci di le veci di diciamo metronomo perché noi vogliamo che ogni volta che questo questo bottone quando lo clicchiamo all'inizio farà scattare una specie di metronomo che farà andare avanti per un numero di frame l'animazione e ogni frame regiscono le lancette in maniera opportuna quindi questo lo facciamo facciamolo assomigliare a un cilindro quindi a un bottone perché lo premeremo per far per segnare il tempo e l'idea qua appunto è quella di dire a ogni frame quindi le animazioni sono composte da varie delle posizioni degli oggetti nelle varie unità di tempo quindi al frame 0 questa lancetta sarà in una certa rotazione questa sarà in un'altra rotazione e così via allora perché tutto questo giochetto sia significativo e per controllare meglio il tutto linkiamo insieme questi oggetti ok quindi facciamo in modo tale che l'ultimo oggetto selezionato sia il nostro tassimo tale che risulti il root questo è importante perché noi vogliamo fare tutti i movimenti dei singoli pezzi relativi al root quindi noi ora il root l'abbiamo messo come ultimo facciamo control L e noi abbiamo questo oggetto linkato che chiamiamolo orologio adesso il fatto che sia un orologio è una pura si potrebbero fare in moltissimi altri modi c'è moltissimi altri tipi di animazione vedremo si può animare anche camminate animali oggetti che si muovono robot eccetera però per il momento ci accontentiamo di provare di animare questo piccolo esempio allora abbiamo detto che noi dobbiamo avere un timer cioè in sintesi un contattore che conti i frame che vogliamo usare quindi creiamoci uno script questo script lo dividiamo in due stati uno stato che è il cosiddetto il default originale che è lo stato spento che quando entra dice appunto che è spento quindi facciamo l set text diciamolo all'inglese off mettiamo in rosso perché lo spent rosso non funziona allora quando entra questo signore dice che è spento e poi diciamo che quando viene toccato quindi touch start integer count cioè sono tutti quelli che lo toccano cosa succede? va nello stato state on quindi si accende quindi andiamo nello state on che sarebbe questo state on e in questo state gli mettiamo le sue varie componenti quindi avrà anche state entry e gli diciamo ll set text on quindi a questo punto è acceso lo mettiamo in verde 0 1 0 1 ricordiamo che qui rgb quindi red green è blu quindi questo qui red 1 quindi in questo modo diventa e a quel punto gli diciamo di contare quindi per contare cosa deve fare? deve avere un contatore per l'appunto quindi gli facciamo lo facciamo con un timer il contatore quindi è una tecnica che io ho insegnato la lezione che di solito è preferibile per ridurre il lag alcuni hanno osservato che è meglio usare un for eventualmente vediamo tutti i due elementi però imparate a fare i for i cicli for con un timer perché soprattutto se ogni iterazione richiede molte risorse della macchina il fatto di aver fatto un timer migliore le prestazioni riduce il lag quindi facciamo integer count ter quindi facciamo un contatore anzi chiamiamola l'italiano contatore allora il contatore gli diciamo che questo contatore deve andare fino al massimo quindi facciamo integer max quindi va da 0 fino al max escluso quindi diciamo di fare per esempio prendiamo 5 quindi facciamo 5 animazioni 5 frame quindi cosa faremo qua faremo allora contatore uguale 0 perché quando entriamo fa il contatore uguale 0 e poi facciamo ll set timer event quindi facciamo scattare un timer che scatta dopo un mezzo secondo e a questo punto l'attività cioè l'oggetto del ciclo avviene dentro il timer in cui ci si chiede if contatore dunque facciamo quindi incriminiamo no teniamo il contatore quindi if contatore minore anzi no diamo per scontato che il contatore vada bene e quindi adesso qui facciamo diamo il tempo adesso vediamo poi dopo come si fa a dare il tempo però dopo aver dato il tempo deve fare contatore più più lo incrementa if contatore a questo punto è maggiore o uguale a max cosa succede? dobbiamo spegnere il timer ll set timer event 0 1 e poi tornare allo stato di off quindi spegniamo il contatore e poi facciamo state default che si può anche fare un llrset script qui per capire se sta contando possiamo anche farlo farlo vedere di cima quindi llset text string di contatore e lo facciamo sempre in verde quindi in verde mettiamo il numero contato del contatore ok quindi a questo punto abbiamo fatto il bottone che quando viene premuto conta da 0 a 5 ed è questo che vogliamo fare vogliamo fare un contatore di french praticamente questo qui fa girare un po' il film nella nostra animazione clicchiamo sul nostro oggetto e vedete adesso è andato in off quindi lo riclicchiamo ed è 0 1 2 3 4 allora 0 1 2 3 dovrebbe intervare fatto tutti gli stati 0 1 2 3 off magari lo facciamo anche scrivere così vediamo se ll6 0 string contatore ok e poi lo riclicchiamo e vediamo 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 quindi in realtà l'ultimo pezzo non lo vediamo ah si perché probabilmente va in state default subito però in realtà lui è andato in off però il contatore l'ha contato ed è questo che ci interessa perché questa informazione gliela faremo dire a tutto il link set quindi lui deve dire il tempo ma non è che lo deve dire a nessuno in particolare lo deve dire proprio ai suoi membri quindi come fa a dirlo ai suoi membri? fa ll message linked ecco questo message linked è un modo per comunicare a tutto il link set un certo evento qui possiamo mettere link set quindi è tutto il link set sul canale mettiamone uno qui può essere un intero qualunque quindi ne prendiamone uno nel canale 0 utilizziamo di non confondere questi canali dei message linked con quelli del channel del della 6 sono diversi questi canali sono ascoltabili soltanto all'interno del link set e però sono anche più comune sono molto più veloci degli altri perché avvengono alla velocità della luce e una specie di telepatia fra gli oggetti inoltre vedremo dopo che visto che poi l'evento che rileva questi message linked si chiama linked message link message la diciamo la confusione che può nascere se mettere message linked o linked message si può diciamo risolvere pensando che se io scrivo l, 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 linked sono tre l che possono essere un po' cacofoniche quindi per mettere un po' meglio dovranno messo linked in fondo ok l, l, message linked cosa c'è? vuole link num cioè quale pezzo del link set voglio parlare ma io posso dire tutto il link set la integer num serve il canale su cui voglio parlare la stringa che voglio dire e poi un altro parametro una chiave quindi posso mandare due parametri fondamentalmente dove anche la key id è una specie di stringa anche se limitata una trentina di caratteri comunque interessante quindi posso già mandare due istruzioni su un unico messaggio linkato gli mando come istruzione semplicemente il numero quindi la stringa qui devo mettere sempre per forza in formato stringa e tutti i messaggi che passano sono delle stringe non possono essere degli interi o dei float o dei vettori quindi devo trasformare tutto ciò che ho in stringa e questo lo faccio in questo modo ok allora a questo punto lo script è terminato quello del diciamo il metronomo questo qui c'è un errore quindi ah si mi manca un parametro e gli mettiamo l'ultimo in fondo null key perché vuole una chiave e gli mettiamo una chiave vuota null key va bene vedete che lo accetta potremmo metterci altrettanto bene anche un doppio apice doppio apice stringa vuota stringa e chiavi in determinati contesti sono interscambiabili anche se non sempre comunque sono molto simili una key vedete che qua le message linked vuole una key ed assomiglia un po' a una stringa perché è una serie di lettere esodecimali ed eventualmente trattini ok allora adesso che abbiamo fatto il metronomo andiamo invece proviamo ad animare il nostro oggetto quindi per animare dobbiamo andare in modalità edit linked modifica oggetti uniti nella versione italiana selezioniamo la nostra il nostro oggetto di partenza questo e cominciamo a progettargli lo script associato allora lo script associato che adesso è vuoto gli mettiamo all'inizio una list una lista di tutte le posizioni che questo oggetto dovrà andare ad assumere quindi abbiamo detto che sta contando da 0 a 4 quindi se abbiamo 5 posizioni cerchiamo di prendersi 5 posizioni 5 rotazioni dell'oggetto allora quindi list rotazioni uguale ecco la lista nel linguaggio di script viene ottenuta con una lista di valori in questo modo specificando la parentesi quadra che si fa con alt gr e poi l'è accentata a fianco della p in vicino al tasto di invio nelle tastiere italiane poi ecco finisce con una quadra chiusa che si fa con alt gr e il più sempre che c'è lì vicino punto e virgola e qui in mezzo ci mettiamo le rotazioni allora le rotazioni metteremo le rotazioni cosiddette di eulero in gradi quindi qui metteremo metteremo le rotazioni espresse con il metodo di eulero adesso spieghiamo velocemente cos'è il metodo di eulero espresse espresse in gradi quindi in gradi normali e non in radianti e altre cose perché questo è il modo in cui c'è sia eulero che i gradi sono le cose più istintive che la gente usa normalmente mi spiego quando andiamo qua e andiamo sull'oggetto andiamo su object vedete che qui abbiamo 180 gradi lungo l'asse x 60 gradi lungo l'asse y e 180 gradi lungo l'asse z quindi queste sono le coordinate dello spostamento esattamente che io posso andare a mettere lì ora se questa è la prima posizione che voglio registrare dovrei registrarmi un vettore fatto con questo modo se uso firestorm o fenix vedete che qui vicino c'è una c che vuol dire copia rotation facendo copy di questo mi posso copiare esattamente le coordinate che ci sono di questa animazione dopodichè posso scegliere un'altra animazione un altro faccio ruotare la cosa la faccio andare magari qua e diciamo che questo è il secondo elemento faccio copy vedete che metto una virgola fra tutti i vari valori dei vettori e questo è il secondo elemento se io non avessi la copia qua dovrei scrivere 180,0,180 a mano quindi vedete che firestorm mi viene in aiuto quindi andiamo avanti prendiamo anche questa terza posizione CTRL V poi facciamo la quarta posizione qua copiamo la rotazione anche qua e poi la quinta rotazione cioè la quinta posizione se vogliamo fare illudersi che sia un movimento circolare facciamo così quindi così va da questa rotazione iniziale alla rotazione finale quindi noi vogliamo fare in modo tale che lui assuma tutte queste quattro questi cinque valori progressivamente e in più vogliamo insistere che al momento in cui parte lui assumi la posizione originale però prima di tutto facciamo così allora ci facciamo una funzioncina che chiamiamo set frame integer frame allora frame è un numero che in questo caso varia da 0,4 cioè praticamente 0 sarà 1,2,3,4 ok allora per sapere dove ci dobbiamo spostare noi fondamentalmente dobbiamo fare un ll7 rot nel nostro oggetto ll7 rot che avete una funzione che ritarda di 0,2 secondi allora cosa facciamo ci prendiamo il nostro il valore di rotazione che chiamiamo rot qua dobbiamo calcolarlo a partire da questa rotazione che però purtroppo non è nel formato giusto dell' ll7 rot e l' ll7 rot vuole un delle coordinate espresse in formato con un quaternione quindi quattro numeri che sono in radiante quindi dobbiamo trasformare quel numero quindi dobbiamo avere una rotation che è un quaternione rot lo mettiamo uguale a ll euler to rot questo qui trasforma una rotazione espressa in coordinate euleriane quindi con l'asse x y z lo trasforma in un quaternione ortodosso però attenzione avevo detto che in realtà dobbiamo convertire in radiante quindi dobbiamo usare questa bellissima costante dec to rad e la moltiplichiamo per che cosa? per il vettore che abbiamo preso della lista attuale quindi prendiamo per l per element chiamiamolo quindi dobbiamo calcolare a questo punto l'elemento della lista annotate che questo modo di operare che sembra un po' strano cioè andare a ritroso da dove vogliamo ottenere dove vogliamo arrivare e capire tutti gli elementi che che servono a passare da ciò che abbiamo a quello che vogliamo arrivare è un procedimento di programmazione molto normale e anche nell'intelligenza artificiale viene anche chiamato analisi mezzi fini cioè praticamente avendo i fini si analizzano quali sono i mezzi perché possono essere utili per arrivare a quella fine quindi è un modo anche di analisi per risolvere problemi complessi io mi baso sul fatto che so già dove voglio arrivare e mi scompongo l'operazione in varie nell'operazione finale con le sue componenti e poi le sue componenti vado a vedere come le faccio a generarmi a partire da ciò che ho in realtà la rotazione non ce l'avevo ancora piena ho dovuto calcolarla convertendo un elemento di una lista che non so ancora come andare a trovare dopodiché a questo punto mi devo andare a capire come faccio a procacciarmi questo vettore quindi vector element lo andrò a prendere come un elemento di questa lista e qui abbiamo una bellissima funzione ll list to vector di rotazioni rotazioni virgola frame quindi nel momento in cui il frame vale 0 qui prenderò lo zeresimo elemento della lista che sarebbe questo questo elemento viene caricato appunto in element questo elemento viene convertito in un quaternione che è l'unità di misura cioè l'unità di definizione delle rotazioni in molti videogame perché è molto friendly ha molti vantaggi indiscussi rispetto alla modalità eleuriana per il computer non ultimo il fatto che è esente da difetti cioè la modalità eleuriana ha certi casi in cui va in tilt su certi tipi di rotazioni allora così siamo in grado di poter impostare un frame dopo di che la prima prova che facciamo è quella di dirgli di andare al set frame 0 quindi questo script praticamente quando parte quindi adesso lo salviamo se non abbiamo fatto errori vedete che in realtà facciamo script save ok devo togliere l'edit la selezione sull'oggetto detto che mi ha rimesso nello stato 0 ora a questo punto quello che manca è di rispondere al metronomo allora visto che sono abbiamo detto in un link set posso ascoltare i messaggi che mi arrivano da un sender su un canale specifico integer channel e poi posso devo vedere quale string messaggio chiamiamo e poi un ok id che non mi interessa allora in realtà come vedete i message link fondamentalmente trasferiscono tre informazioni che sono il numero del canale il messaggio e l'id ma noi usiamo sempre solo l'msg gli altri per il momento non ci interessano ok quindi noi ci ricostruiamo integer counter anzi più che counter lo chiamiamo questo punto frame e lo prendiamo dal canale cioè quello che ci è fornito dicendo che è l'integer dmsg allora mentre quando l'abbiamo trasformato da intero a string abbiamo fatto quello che viene chiamato serializzazione ce l'abbiamo messo su un canale per essere trasmesso adesso quando lo stiamo ricevendo questa string la dobbiamo ritrasformare nel tipo originale e questo viene chiamato deserializzazione adesso qui è molto semplice forse perfino eccessivo parlarne però vedremo che è importante questo fatto quindi la serializzazione avviene quando si trasforma tutto in un flusso di dati consecutivi non strutturati apparentemente fra di loro ok allora qui quindi quando riceve il messaggio cosa fa deve fare un no set frame deve quindi obbedire quindi set frame del frame ora a questo punto questo script direi che potrebbe funzionare nel senso che noi andiamo a cliccare sul nostro timer e come vedete abbiamo un'animazione adesso questa è un'animazione un po' rozza perché tra di loro abbiamo preso soltanto 5 frame quindi lo fa in maniera un po' rozza volendo si potrebbe fare anche una variante che calcola anche le rotazioni intermedie e quindi lo rende un pochino più fluida però era quello per farvi vedere che quindi siamo riusciti a costruire questo contatore allora voi vi chiederete perché ho fatto fare tutto ciò da un metronomo esterno e non l'ho messo direttamente qua il timer e no perché io voglio che questo oggetto sia perfettamente sincronizzato cioè la rotazione di questo oggetto sia sincronizzato con le rotazioni e posizioni di quest'altro oggetto quindi cosa faccio anche l'altro oggetto lo voglio animare e magari non si animerà esattamente come l'altro quindi per fare l'animazione nel secondo oggetto prendo sempre lo stesso script questo vado dentro la lancetta questa la piccola nel contenuto allora non avevo premuto quindi cancelliamo il nuovo script uno che non ci interessa questo è il nuovo script che vi ho detto che è il metronomo lo rinominiamo metronomo così lo riconosciamo edit linked e qui prendiamo questo script che è il nostro lancetta diciamo l'animazione quindi l'animatore questo animatore lo mettiamo anche qua quindi il new script animatore questo è lo stesso script che viene messo dentro anche la lancetta piccola però vedete a questo punto la cosa che cambia sarà nelle rotazioni quindi qui non ci saranno queste 5 rotazioni ma dobbiamo metterci le rotazioni in cui vogliamo far fare questa lancetta piccola quindi usiamo lo stesso trucco di prima andiamo a vederci la rotazione di questa quindi copia la mettiamo qua poi facciamo ruotare pochetto per volta così facciamo copia così poi facciamo ruotare adesso qui lo sto facendo in maniera così a naso ma poi voi eventualmente potete mettere delle rotazioni effettivamente interessanti oppure anche potete far calcolare le rotazioni adesso io qui ho fatto delle animazioni che potevano essere calcolate anzi nel caso dell'orologio sono sicuramente calcolate ma era per farvi vedere che in realtà si possono animare qualunque tipo di di movimenti anche che non siano calcolabili quindi prendiamo qua anche il no questo abbiamo già appena preso quindi facciamo girare ancora un po' copy questo qui sono 4 e prendiamo l'ultimo allora l'ultimo vabbè se lo facciamo possiamo anche farlo un altro poi tanto se lo mettiamo qua ad esempio poi lui quando riprenda dall'animazione 0 farà uno scatto verso ok allora qui quindi abbiamo messo lo script che anima anche la seconda lancetta vedete che si è rimesso nella posizione originaria quindi a questo punto facendo cliccando la lancetta grossa si muove in un modo e la lancetta piccola parte da 0 e si muoverà in un altro adesso ripeto se invece di farne 4 ne facciamo di più quindi tipicamente tenete conto per avere una visione fluidissima che dura circa un secondo ci vorrebbero come minimo una una dozzina una decina di frame adesso ne abbiamo fatti solo 5 e quindi si vede che non 5 e oltretutto non è neanche il numero che conta ma è la è anche diciamo la distanza fra le varie fra le varie rotazioni e posizioni noi qui ecco potremmo il metronomo abbiamo visto che adesso lo fa con un timer noi potremmo cercare di ridurre il timer per rendere l'operazione più veloce quindi possiamo fare timer a 0 1 che su second line funzionerebbe nel senso che farebbe farebbe fare tutto molto più veloce ma ahimè vediamo che in in open sim in realtà il minimo sembra proprio mezzo secondo quindi non riusciamo ad avere una velocità maggiore di questa se volessimo essere più veloci potremmo tentare con la tecnica che avevo accennato prima invece di fare un timer si può fare un for quindi in pratica invece di fare questo mestiere contatore anzi possiamo farlo con uno no facciamolo cambiamo qua giusto per semplicità quindi invece di fare contatore uguale a 0 facciamo un for contatore uguale a 0 finché il contatore è minore di max punto virgola contatore più più questo credo che ormai l'abbiate digerito è il modo di far evolvere il tutto e poi qui facciamo un retur per non fargli eseguire le parti successive quindi il timer non viene mai attivato il contatore va da un punto all'altro e gli facciamo fare direttamente questo questa cosa e gli facciamo emettere il contatore a ogni giro quando viene premuto ok questo è un modo alternativo ok adesso proviamo a cliccare questo e vedete che siamo riusciti effettivamente a a farlo fare un po' più veloce però vedete che c'è qualcosina lui dice che è on ah si perché non l'abbiamo fatto tornare al punto di pertenza in realtà quando ha finito di fare questo mestiere dovrebbe tornare quindi in realtà si poteva fare direttamente tutto questo mestiere qua adesso potremmo fare sul touch start e evitare addirittura il di avere due stati ok così direi che è meglio e quindi in realtà tutta questa parte del programma è come se non ci fosse stiamo lavorando solo qua voi dite è più semplice quindi lo facciamo eseguire quindi facciamo clicchiamo ah no syntax error syntax error perché c'è un return qua che vuole il punto e virgola save complete quindi a questo punto save lo clicchiamo vedete che riusciamo a ottenere performance migliori si muove non tantissimo però diciamo che invece di impiegarci mezzo secondo a fare il giro ce ne impiega diciamo 0,2 quindi va un po' più del doppio di velocità il che potrebbe essere per alcune vostre animazioni un pochino meglio anche se ah si no è giusto pensavo che si fosse disallineato ma è giusto qual è la contraindicazione di avere un touch start fatto in questo modo qua che se vuoi per ipotesi io ho visto molte persone che fanno per ottenere l'animazione continuativa mettono questa cosa dentro un loop infinito quindi fanno una cosa tipo ha messo dentro chissà se lo accetta qua se ne lo mettiamo così il loop sempre che ce lo compila direi che non ce lo compila però possiamo fare un for facciamo integer i for i uguale 0 i minore di 1 ecco così praticamente è un loop infinito praticamente ok in questo modo l'animazione continua all'infinito in teoria quindi se io clicco qua vedete che lui continua all'infinito a fare l'animazione e questo sembra tutto molto bello ma il risultato è che si sta pesando molto sulle risorse di quella di quella sim quindi in questo momento la CPU usata è molto elevata quindi sembra bello ma non è poi così tanto bello e spesso di fronte a script di questo tipo il simulatore dopo un po' decide di ucciderli adesso comunque queste cose possono anche cambiare da versione a versione ma diciamo che di fatto questo meccanismo è sconsigliato se proprio volete fare un effetto del genere potete eventualmente tenere come for il singolo un singolo giro ma mettere il secondo for come un timer esterno allora ho convinto che lo chiamassi prima adesso magari provo a rientrare dopo per vedere se questo crea di casino la simulatore in ogni caso in qualunque sistema voi usiate conviene che abbiate un sistema adesso tra l'altro ormai non si capisce più niente comunque conviene che abbiate un sistema per spegnere il tutto quindi con un bottone che tolga l'alimentazione a questo oggetto altrimenti per spegnerlo l'unico modo che avete è di interrompere il metronomo qua ecco se qui togliete il running dal metronomo vedete che in realtà gli eventi che lui ha generato continuano a essere eseguiti perché ne ha generato veramente tanti e dopo un po' di tempo si ferma il tutto in teoria finché io eventualmente posso fare il running di nuovo e riprendere però come vedete non è ah adesso si è spenta quindi è spegnendo e accendendo in questo modo è andato in modalità off comunque ripeto non è la strategia principale se volete fare il for dentro il touch assicuratevi che non lupi per più di una sequenza di frame e che questa sequenza di frame non sia ad esempio di 200 frame insomma poi potete anche verificare con il gestore della grid se quello che state facendo crea dei problemi allora abbiamo visto quindi che la LL7 abbiamo usato fondamentalmente lui continuerà a girare abbiamo usato quindi la LL7Rot per animare una rotazione la volta prossima vedremo come combinare questi due movimenti quindi di rotazione e di posizione per ottenere delle animazioni più complesse tenendo conto che negli oggetti rincati c'è il problema che quando si fa un LL7Pose soprattutto l LL7Pose dipende in realtà da che tipo di impostazione si fa e quindi in particolare se sta ruotando cioè se si sta posizionando in coordinate assolute nella sim oppure in coordinate relative al prim che vengono chiamate coordinate locali in realtà anche la set rot può avere questo comportamento però di solito sulle rotazioni c'è leggermente meno confusioni nel senso che in questo caso nel momento in cui il prim root come vedete è dritto rispetto alle coordinate della sim la rotazione assoluta equivale a quella locale infatti se io vado a vedere local e world vedete che qui non cambia la rotazione quindi le rotazioni che vengono usate da queste sia che siano globali che siano assolute dipendono cioè non cambia in questo caso perché comunque questo oggetto è allineato agli assi cartesiani giusti ok allora questo è stato più o meno quanto esposto nella lezione di mercoledì scorso cercheremo di approfondire man mano anche cose leggermente più complicate nei prossimi giorni nelle prossime settimane nel frattempo è tutto buona giornata arrivederci